E' conclusa, possiamo usare questa parola, visto che siamo al terzo grado di giudizio, si è conclusa una vicenda annosissima. Io ricordo che me ne sono occupato già quando ero ancora assessore ai lavori pubblici al traffico con l'ingegner Luccherini all'inizio degli anni 2000. Si tratta del tema della titolarità del suolo nei dintorni dell'edificio ex-standa, zona Campodimarte, sul quale l'amministrazione comunale ha da tempo parcheggi pubblici a pagamento che gestisce Atam. Su questa titolarità si è acceso un contenzioso tra chi è materialmente proprietario dell'area e chi come l'amministrazione comunale la esercisce per conto dei cittadini. Di questo vi parlerà l'avvocato Pasquini, ma la buona notizia, la notizia importante, la notizia è che il Consiglio di Stato ha definitivamente dato ragione al Comune di Arezzo dichiarando sostanzialmente quell'area di pubblica utilità e quindi libera per poter essere utilizzata come parcheggio pubblico. Il Comune di Arezzo ha fatto appello al Consiglio di Stato a verso una sentenza errata del Tar e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione nel riconoscere che quell'area è formalmente dei privati, però sussiste ormai in quell'area da molti anni una servitù di uso pubblico a parcheggio. Per cui il Comune di Arezzo e Atam sono pienamente titolati a continuare a svolgere questa funzione di servizio pubblico per i cittadini, cioè di gestire il parcheggio in quell'area. È importantissimo che il Consiglio di Stato abbia riconosciuto questo diritto alla cittadinanza di Arezzo.